Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Durante un'intervista a FQ Magazine, Patrizia Groppelli si è aperta senza filtri. Ha parlato del tradimento dell'ex marito Dimitri Kunz d'Asburgo, Lorena con Daniela Santank, una delle sue care amiche. Ha confessato che portare le corna così pubblicamente è stata una vergogna, politica, dovuta forse alla sua educazione, e ha subito una grande pressione mediatica che l'ha fatta stare molto male. I media hanno parlato molto del divorzio di Patrizia e Dimitri, ma lei ha preferito tacere. Nonostante il dolore del tradimento, continuava a voler bene a una persona che per 14 anni era stata il suo tutto. Ha sofferto per il matrimonio che è crollato e per il doppio tradimento subito. Il più difficile da accettare è stato quello dell'amica. Dopo aver scoperto il tradimento di Dimitri, ha perso peso e si è ritrovata in un tunnel buio. La sua rinascita è stata grazie ad Alessandro Sallusti, che all'epoca stava con la Santank. Sallusti l'ha aiutata e protetta, diventando un vero amico. La Groppelli ha rivelato che senza di lui non sarebbe sopravvissuta alla tragedia. Quando il tradimento è venuto a galla, Dimitri ha lasciato Patrizia e la Santank ha lasciato Sallusti. Patrizia e Alessandro si sono sostenuti reciprocamente e l'amicizia si è trasformata in amore. La giornalista ha capito di essere innamorata di lui quando ha rischiato di perderlo per un infarto. Oggi, Patrizia considera il tradimento come un regalo della vita e un esempio di come ci si possa rialzare anche dopo.